Cristian, qua a me, attaccante. Sono fatto la rottura del ligamento crociato e minisco il 12 novembre, però mi sono operato il 18 novembre. L'ho trovato molto bene, abbiamo lavorato davvero bene e sono molto contento. Mi dispiace lasciarmi presto, però sono contento di aver lavorato con me. Bocca al lupo per il recupero, per la fine del recupero e per questa nuova tua avventura. Grazie. Grazie.